un cordiale ben trovato a tutti i nostri amici telespettatori un nuovo appuntamento con la nostra rubrica oltre la storia per un nuovo avvincente interessante appuntamento questa sera parliamo di segreti e misteri sotto le piramidi e ne parleremo in compagnia di un ospite davvero d'eccezione ne parliamo con Corrado Malanga ma mi raccomando restate con noi dopo la sigla professore ricercatore universitario presso il dipartimento di chimica e chimica organica dell'università di Pisa pubblicato più di 50 lavori su riviste internazionali di chimica per 30 anni responsabile del comitato tecnico scientifico del centro ufologico nazionale proseguendo poi il suo lavoro come fondatore del gruppo stargate toscana per decenni ha scritto numerosi libri e ultimi anche nei tempi più recenti che o per la fabbrica dell'immortalità dio e dio io e questo è il profilo del nostro ospite di questa sera al quale do il mio più affettuoso ben trovato nella nostra redazione da Torre del Greco al professore Corrado Malanga buonasera prof. Eh buonasera buonasera a voi grazie del vostro invito e grazie della vostra ospitalità. È un piacere ritrovarla anche nel corso di questa nostra quinta stagione grazie di aver accettato l'invito un invito che ci è stato trasferito grazie al mio compagno di viaggio e di avventura di sempre buonasera Edoardo ben trovato anche a te. Sì ciao Salvatore buonasera a tutti gli amici di TV City e anche a Corrado Malanga per una bellissima intervista. Bene Edoardo allora a te le prime battute iniziamo questa serata che si presenta per l'argomento e per gli ospiti e per il numerosissimo pubblico già in diretta davvero interessante. Esattamente noi abbiamo già intervistato il professor Malanga diverse volte nel corso delle stagioni precedenti lo abbiamo intervistato sia sul libro di Cheopo così come l'avevi anticipato tu la fabbrica dell'immortalità l'abbiamo intervistato su Dio e Dio abbiamo fatto una bella chiacchierata sui rapimenti alieni insomma abbiamo fatto veramente un approfondimento su quello che è stato il nostro passato almeno per quello che riguarda gli antichi Egitto e quindi lui ha fatto ulteriori ricerche e ha fatto delle scoperte veramente interessanti anche ha realizzato un documento scientifico che è stato poi approvato e ce lo racconterà lui dove è riuscito a inquadrare quello che si trova sotto ai piedi delle piramidi e quindi ce lo facciamo raccontare da lui. Allora professore ciao innanzitutto buonasera un'altra volta ci racconti un po' in dettaglio queste tue ultime ricerche sul SAR. Sì è stata un'avventura questa è stata un'avventura che sicuramente è in questo campo la prima ma non sarà l'ultima. Quando io ho scritto il libro che avete fatto vedere sono stato contattato da un esperto di radar il quale mi ha proposto ovviamente di collaborare per verificare se si poteva attraverso il radar, radar satellitare, verificare se effettivamente all'interno di quel monumento che si chiama, che noi chiamiamo erroneamente la piramide di Cheopei ma che si chiama in realtà piramide di Khnum Khufu, quelle che erano le cose che io avevo scritto nel libro. Cioè nel libro avevo scritto che la piramide era una specie di grosso macigno che vibrava a una certa frequenza con il vento. Veniva in parte riempito di acqua, l'acqua faceva passare questa vibrazione in particolare che noi avevamo anche calcolato con degli apposti software, dalla stanza che si chiama la stanza del re in alto, in basso alla stanza della regina e questa vibrazione che passava era una vibrazione che conteneva le istruzioni per la guarigione del faraone. Faraone che sarebbe invece stato posto nella stanza della regina in una specie di canna d'organo, probabilmente di legno, ci sono ancora le tracce di questa cosa nel pavimento della regina che erano in realtà note dal 1880, quindi noi non abbiamo scoperto niente, le abbiamo solo riscoperte. Abbiamo detto ma come mai nessuno si è accorto che nella stanza della regina c'è un posto dove mettere, bravo, proprio così, questo cilindrone che vedete sulla vostra destra in basso, nella fotografia in basso, che noi abbiamo ricostruito con un'operazione di sovrapposizione ovviamente. E ci siamo ritrovati di fronte a una macchina che era una macchina che funzionava col vento, che funzionava con la roccia, che funzionava con l'acqua e che trasportava questa vibrazione che noi avevamo scritto essere la vibrazione animica della persona che stava nella stanza di sopra, quella specie di vasca di granito che non è una vasca, o meglio non è un sarcofago ma è qualcosa di più complicato, questa cosa, questa informazione da un punto di vista entropico si staccava, veniva portata nella stanza di sotto, il faraone riviveva, dopodiché il faraone, ecco perché si legge, è vissuto 4.000 anni, 3.600 anni, 3.000 anni, perché i faraoni dei erano longevi, longevi per il fatto che avevano con questa tecnica, secondo noi, nel libro c'era scritto così, si rigeneravano. Allora guardiamo se dal radar si può vedere questa cosa, è il radar ad apertura sintetica, allora radar radar ad apertura sintetica è un radar che per guardare le immagini tridimensionali della piramide avrebbe avuto bisogno di un'antenna di 12 chilometri, ora sapete mettere in orbita un'antenna di 12 chilometri non è banale, fino a che un signore più di 70 anni fa, si chiama Wiley, ha messo a disposizione una tecnica nuova, ha fatto muovere il satellite per un arco di 12 chilometri, una apertura di questo tipo e questa persona è quasi arrivata alla scoperta di quello che in realtà abbiamo fatto noi, ma si è fermato un passetto prima, pensate lui aveva già immaginato in qualche modo, era stato un precursore perché si era, aveva già pensato di poter costruire delle vele spaziali in cui in qualche modo queste vele potessero essere frutto di una spinta che una nave attaccata a queste vele potesse avere, perché queste vele risentivano dei fotoni che arrivavano dal sole, alcuni di questi fotoni si sarebbero trasformati in fononi, i fononi hanno una massa negativa e avrebbero spinto la vela e costruendo una vera e propria propulsione, pensate questi sono progetti che poi la NASA ha ripreso una ventina d'anni fa, era quindi già arrivato a comprendere che si potevano usare le tecniche radar per studia per trasformare il segnale dei fotoni in segnale fononico, ora i fotoni lo sanno tutti più o meno che cos'è o meglio credono di saperlo perché la verità è questa, i fotoni sono quelle particelle che in qualche modo la fisica ci dice sono i trasportatori della informazione del campo elettromagnetico, i fononi cosa sono? analoge particelle che però trasportano un'altra informazione, la vibrazione e questa vibrazione può essere una vera e propria vibrazione solida, cioè può essere sostanzialmente il suono, ecco perché vengono chiamati fononi. Il radar fa così, lancia un certo numero di segnali su un bersaglio, il bersaglio li butta indietro, il radar riprende indietro queste informazioni che sono sostanzialmente quattro cose, cioè la posizione x y z del punto colpito e la sua energia, chiamiamola così. E quindi è possibile con opportune tecniche riuscire ad avere dal radar delle immagini tridimensionali della cosa che stiamo guardando. Per fare questo ovviamente ci vogliono almeno due passaggi del radar, il primo passaggio bisogna aspettare 16 giorni nel nostro caso. E il secondo passaggio, si ottengono delle figure come quelle che vedete ora, questo è stato un terremoto sostanzialmente dell'ultimo terremoto dell'Aquila, in cui si sono sovrapposte e si ottiene così un interferogramma, si sono sovrapposte due immagini, l'immagine di prima del terremoto e le immagini dopo il terremoto. Le due immagini sono fatte di puntini, cioè è un foglio bianco con tanti puntini, non si vede niente, ma la magia avviene quando le due immagini vengono messe una sopra l'altra, allora si ecco che si ottiene queste immagini di natura tridimensionale. L'avremmo potuto fare noi un lavoro del genere con la piramide, cioè avremmo potuto vedere se la piramide vibrava. Pensate che il radar con le tecniche che abbiamo oggi a disposizione può vedere le vibrazioni di un millimetro, le tecniche SAR vengono utilizzate per vedere lo spostamento dei ghiacciai, per esempio, quindi sono tecniche che sono ben note da più di 70 anni, se vogliamo. Solamente con la messa in in orbita dei satelliti si è riusciti a fare quello che si teorizzava e la messa in orbita dei satelliti va ricordato anche una cosa fondamentale che la gente si dimentica, cioè l'Italia è stata la terza potenza nel mondo a mettere satelliti in orbita. Prima c'è stata la Russia con lo Sputnik, poi sono arrivati gli americani e terzo c'è stato il nostro bravo generale Broglio che dalla piattaforma di Malindi in Africa a costo molto più basso che non il costo di un qualsiasi lanciatore americano come il Titan o francese come l'Ariane oggi riusciva a fare. Quindi noi siamo stati la terza potenza. La tecnica SAR è una tecnica che in Italia ha sicuramente trovato non solo un grande bacino d'utenza ma anche delle competenze storiche che gli altri paesi non hanno e quindi ci siamo buttati come pesce su questa tecnologia. Senza farla molto complicata sul perché, sul per come si fa, cosa vuol dire radar all'apertura sintetica, in questo caso subapertura, cioè in breve invece di usare 12 chilometri di apertura sintetica ne usiamo 6 e le altri 6 chilometri li usiamo per ottenere altri dati e questi dati in un unico passaggio li sovrapponiamo, li mettiamo insieme e otteniamo una cosa che la gente non aveva pensato di poter ottenere, cioè guardare dentro la pietra, perché finora non l'aveva fatto nessuno, finora avevamo guardato fuori le cose che vibrano fuori, ma dentro, ecco, con questa nuova idea, e va detto ancora che Wiley ci era quasi arrivato, ma a volte noi ci si stupisce, io quando facevo il chimico mi stupivo del perché quando scoprivo una nuova reazione e mi chiedevo ma come mai non l'hanno scoperta gli altri che era sotto gli occhi di tutti? E qui c'è un po' il discorso della coscienza, guardate che senza coscienza non si va da nessuna parte, quindi trovarsi al momento giusto, al posto giusto, avendo l'opportunità di avere i mezzi giusti, e se tutto è corretto ti riesci a trovare quello che altri non hanno trovato, anche se ci hanno camminato sopra per tanti anni. Noi abbiamo guardato all'interno della piramide. La piramide diventa sostanzialmente come un blocco di numeri, fai conto un cubo di numeri e dopo, come una torta, lo possiamo tagliare a metà. Questa è una tomografia, una delle prime, nelle quali non si capiva niente, perché come vedete voi, senza acquisizione di consapevolezza, vedete delle macchie di colore e non ci si capisce assolutamente niente. In realtà abbiamo preso queste tomografie, ne abbiamo fatte delle altre, abbiamo tagliato la torta in tante direzioni, in tanti modi. Era come tagliare veramente una matrice tridimensionale di numeri, però è facile avendo il modello in mano, avendo tutto nel computer e sostanzialmente operando sui numeri e non sulla piramide. Questa, per esempio, è una tomografia che mostra abbastanza chiaramente, per chi l'ha studiata ovviamente, delle macchie luminose che sono dei corridoi. Ne vedete due trasversali che vanno da in alto a destra e in basso a sinistra. Questi due corridoi sono, pensate, eccoli qua, due corridoi che scorrono sotto la piramide e scorrono sotto per circa 100 metri. Voi vedete l'immagine schiacciata perché il computer la schiaccia, ma si può anche far tornare a dimensione normale, ma come se voi vedeste la piramide dall'alto ed essa fosse completamente trasparente e voi state guardando cosa c'è sotto la piramide. Cosa ci fanno? Due aggeggi così, li rivedete in chiaro sotto il modellino della piramide. Vedete, sono quelle due cose che scendono sotto il livello. E che cosa cavolo erano quelle due immagini? Ecco, lo rivedete nella tomografia di destra, si vedono queste due immagini che vedete che cambiano pendenza a un certo punto e nell'istante in cui cambiano pendenza nel modello, è stato ricostruito questo, c'è una specie di corridoio che le unisce proprio nel gomito, nel punto, nel ginocchio, chiamiamolo così, dove cambiano pendenza. Invece ci sono altre macchie, io purtroppo non ve le posso segnare col dito qui perché voi non lo vedreste, dove però chi le ha viste capisce un sacco di cose. Ecco, guardate per esempio questo. Noi stiamo guardando sempre la piramide dall'esterno. Vedete che c'è sulla destra quella specie di serie di scatolette, che sono come dei gradini. Questi gradini sono effettivamente la struttura interna della piramide. Vedete come è stata ricostruita sulla destra, no? Dal modellino in tre dimensioni. La piramide è fatta a gradoni e sostanzialmente dentro questi gradoni sono stati riempiti, originariamente erano completamente invisibili ed era tutto... la piramide si vedeva come uno specchio dall'alto. Se gli antichi 14.000-13.000 anni fa avessero avuto uno satellite l'avrebbero vista la piramide come uno specchio dall'alto. Riflettere la luce. Ecco, vedete, studiando queste tomografie si vedono un sacco di cose. L'occhio esperto vede in alto a destra, non so se voi lo vedrete o no, in alto a destra c'è il tetto dello Zed, che è luminoso e che si vede benissimo come si vedono sempre in basso i due corridoi che scendono sotto coperta, diciamo così, con il corridoio che si intravede che è proprio sul gomito, cioè dove scendono le... dove cambia la pendenza. Che cos'è questa roba? Sì, che cos'è questa roba? Noi ce lo dovevamo chiedere e qui dall'alto si vede anche un corridoio che viene verso l'alto e che è in alto quella specie di striscia chiara che viene verso l'alto, verso di noi, verso l'osservatore. Quindi sostanzialmente noi avevamo un modellino come questo, in cui c'erano due corridoi che salivano, a un certo punto c'erano due stanze ad altezza ground zero, diciamo così, e da queste due stanze partivano due corridoi a scala che si sarebbero uniti con un corridoio rossastro che io ho messo in colore rossastro e questi due corridoi si sarebbero unificati tra di loro. Ecco, vedete questo corridoio che c'è qui? Bene, guardate bene al centro c'è un altro corridoio sul giallo, sul becco d'oca, che circonda tutto l'azienda, tutta la struttura dell'azienda. Che cosa cavolo sarà questa roba? Ci siamo chiesti. E delle domande ce le siamo fatte. Dovevamo rispondere, no? Nel lavoro scientifico bisogna far notare una cosa fondamentale. Mentre guardate questa figura, io ve lo dico, nel lavoro scientifico c'è scritto, guardate che quello che noi abbiamo visto e ricostruito con tutte le tomografie, quindi non c'è una sola misura, ce ne saranno cento, fai conto, di misure, tutte sono coerenti l'una con l'altra. Vediamo gli stessi oggetti da più parti e le proporzioni sono sempre le stesse. Quindi questa informazione è un'informazione diretta, è come se noi guardassimo all'interno della piramide. Cosa dice Zakiawas? Zakiawas dice, è da dieci anni che sappiamo che nella piramide ci sono dei buchi, ma che ci siano dei buchi non vuol dire che ci siano delle stanze. Oppure, ancora per continuare con quello che dice Zakiawas, sì, tutte queste belle ricerche saranno molto interessanti e viva, ma non si potranno convalidare, perché per convalidarle bisognerebbe togliere delle pietre e andare a vedere se effettivamente ci sono queste stanze che voi trovate con misure indirette. Per esempio, la misura del calore esterno, la calorimetria sull'esterno della piramide fa vedere che dietro alcuni massi ci sono delle stanze, ci potrebbero essere dei vuoti, perché lì c'è un calore differente. Oppure la microgradimetria fa vedere che sotto, dentro, ci sono dei corridoi che si muovono, eccetera, eccetera. Ora, premesso che tutte le misure che sono state fatte in precedenza sono perfettamente coerenti con le cose che abbiamo visto noi, cioè sono in accordo, tranne l'ultimo lavoro del 2017 sul Big Void e poi ne parliamo, il problema è che tutte le misure che sono state fatte finora, tutte, senza escluderne una, sono misure indirette, cioè troviamo una temperatura differente, si pensa che ci sia una stanza. No, noi la vediamo quella stanza lì, quindi mi dispiace per il signor Zaki Awas, ma queste sono misure assolutamente dirette e in quel contesto Awas si è dato l'ultima zappa sui piedi che si poteva dare, la martellata sulle palle. Per quale misterioso motivo? Perché lui dice, eh, io tanto non lo dice ma lo pensa, non vi voglio far capire che cosa c'è lì dentro, perché io lo so che Zaki Awas c'è stato lì dentro e ha scoperto delle cose e ne farò cenno in una delle prossime conferenze che farò il prossimo anno in cui farò vedere chiaramente come perché Zaki Awas ha modificato la realtà delle cose. Dopodiché nel frattempo Zaki Awas, che sappia che io sto preparando questa conferenza così, ha il tempo di scappare e non lo troviamo più perché lo sputtanerò nel vero senso della parola, perché se lo merita. Ora, perché la zappa sui piedi? Perché lui sostanzialmente dice, eh, ma noi non possiamo avvalorare le vostre ricerche scientifiche perché non possiamo spostare nemmeno una pietra. Ecco, benissimo. Ora bisognerebbe che lui spostasse delle pietre e trovasse le cose che noi mostriamo per dire che le cose che noi mostriamo sono false. E siccome non sposterà neanche una pietra, le cose che abbiamo trovato noi sono assolutamente vere e il fatto che lui non voglia spostare nessuna pietra ci farà capire proprio questo. Vedete questa fotografia, per esempio, è una, un paio di fotografie di un servizio fotografico di tanti anni fa, della televisione del National Geographic inglese, che fa vedere che sotto la stanza del faraone ci sono altre stanze che sono state coperte da Zaki Awas con una rete, perché se no ci cascavano dentro i turisti, e su questa rete ci ha messo dei massi per nasconderla. Ora il SAR, radar di apertura sintetica, quelle stanze di sotto ce le fa vedere e ci fa capire anche come questa specie di sarcofago gigantesco, che non è un sarcofago, ma è una vasca, ecco vedete si è entrato. Da che parte è entrato il sarcofago? Il sarcofago è proprio entrato da quella parete dove vedete ci passa esattamente ed è entrato da lì, perché non può entrare dalla porta. Perché? Perché dalla porta non ci passa. Quindi gli egittologi poverini hanno detto, si sono inventati l'idea che il sarcofago è stato costruito e la piramide è stata costruita attorno al sarcofago. Cioè dove la fantasia finisce cominciano gli egittologi. Invece lì, dietro a quella pietra lì e sotto, dove ci sono le stanze che noi abbiamo trovato e che Zaki Awas finora ha cercato di nascondere, beh il sar le vede. E allora ecco che si capisce come un monumento che è stato costruito almeno 36.500 anni fa, perché questa è la data del monumento, almeno 36.500 anni fa, se gli si rompeva il sarcofago, come vedete che poi è successo perché si è rotto, tutto l'Ambaradane non avrebbe più funzionato e allora il sarcofago avrebbe dovuto essere sostituito. E cosa si fa? Si costruisce un'altra piramide? No! Si prende quella pietra, si toglie la pietra, si infila il sarcofago lì dentro e si porta in un'altra stanza dove ci sono sarcofagi probabilmente di recupero, per evitare di costruire un monumento così grande. Guardate questa lente di ingrandimento bianca. Qui siamo nella stanza, nella grande galleria, verso l'uscita. Quindi davanti a voi c'è l'uscita della piramide. Che cos'è quel buco quadrato in alto che nessuno ha mai notato e ha fatto finta di vedere? Bene, secondo il radar d'apertura sintetica, lì dietro c'è un percorso che porta direttamente all'uscita della grande piramide. E che cosa serviva a questo percorso? Si vede benissimo dalle tomografie. Secondo noi serviva come uscita di sicurezza. Era l'unico posto dove collocare un'uscita di sicurezza per chissà com'è fatta la piramide. Cioè, se uno dei grossi blocchi di granito che serviva a bloccare l'entrata o l'uscita della piramide, questo è praticamente lo schema della piramide con una tomografia adattata sopra. Vedete? Dove si vedono le cose che noi conosciamo. Se uno di questi pietroni, che di solito albergava nella prima rampa di entrata, che porta alla grande galleria, si fosse incastrato o ci fosse stato qualche altro problema, il faraone non usciva più da lì e non uscivano più neanche tutti gli inserventi. Allora ci sarebbe avuto voluto bisogno di una uscita d'emergenza. Allora vuoi che gli egiziani che hanno costruito, i costruttori che hanno costruito questa cosa non abbiano pensato a una uscita di sicurezza? Guardate, qui si vede bene in questa tomografia, in questa ricostruzione, la stanza sotto lo Z. Vedete che c'è in in blu un percorso che non è orizzontale ma è inclinato, che porta a una stanza chiara, bianca, che sta proprio sotto lo Z, sotto il pavimento dello Z e quindi quando si doveva cambiare il sarcofago, un altro sarcofago veniva posto nello scivolo blu, saliva nella stanza bianca e nella stanza bianca attraverso il pavimento e attraverso la parete che avete visto prima, passava dentro la stanza del faraone. Allora noi abbiamo dovuto a questo punto spiegare tutta questa roba che c'era dentro, che cos'è e quello che ci è venuto in mente è continuare sulla nostra primaria ipotesi. La tomba, che non è una tomba del faraone, la piramide veniva utilizzata per ringiovanire il faraone e questo si faceva con delle vibrazioni. Per capire bene questo, noi Ilo Tempore avevamo già scritto su un libro, Cheope, la macchina dell'immortalità, avevamo calcolato le frequenze a cui la stanza del faraone assorbe energia, 32,9 hertz circa. Avevamo fatto i nostri conti, ora siamo in grado di fare dei conti migliori e proprio l'altro giorno il mio collega con il quale sono co-worker di questa cosa, ha ricalcolato le cose e abbiamo visto una cosa eccezionale, che le cinque stanze dello Zed altro non sono che un filtro passabasso, vero, ma c'è in altro anche una lente di fononi, sostanzialmente, quindi non di fotoni, una lente fatta di roccia che produce l'entrata dei fononi, delle vibrazioni nello Zed, lo Zed purifica nel passaggio tutte queste cose e in fondo esce dal tetto della stanza del faraone, quindi dalla base dello Zed, esce un raggio fononico che entra direttamente nella vasca del faraone, al che si potrebbe anche dire che il faraone dovesse avere la testa poggiata sulla sinistra e non sulla destra, perché questa onda fononica praticamente polarizzata gli entra nel cervello e questa è una cosa che non solo fa capire che effettivamente noi ci abbiamo azzeccato e che quindi la piramide è una macchina che vibra e che produce energia fononica, ma che sostanzialmente non è stata costruita dagli antichi egizi, perché gli antichi egizi che avevano, non conoscevano la ruota, non conoscevano la leva, non avevano la scrittura, non ci avevano niente, se non tagliare le pietre con le pietre, non avrebbero mai potuto edificare una cosa del genere, non avrebbero mai potuto spostare i blocchi di granito che spiegheremo anche secondo noi e secondo la fisica quantistica come sono stati spostati per la prima volta, visto che non ci ha capito niente nessuno, noi proviamo a scrivere questa cosa e a spiegarlo su dati di fisica quantistica già pubblicati in letteratura. Questo chiaramente ci fa capire che gli antichi egizi non potevano costruire questo grosso diapason di pietra che serviva per purificare, equalizzare il segnale di vibrazione del terreno che veniva da destra e da sinistra, perché la piramide ha 229 metri di larghezza e quindi le vibrazioni del terreno a destra e a sinistra, lato est e lato ovest della piramide non sono uguali, devono essere equalizzate e con questi canali in entrata sottoterra prima e poi verso altri 100 metri d'altezza a livello dello Zed si uniscono con questo tunnel orizzontale, i due segnali che sono un po' diversi tra loro vengono ammazzati e solamente quello che è la differenza di questi due segnali viene portata attorno allo Zed e fa vibrare lo Zed a destra e sinistra, davanti e dietro in modo uguale, in modo che tecnicamente lo Zed non vibrerà neanche a quella vibrazione lì e quindi si purifica tutto. L'unica cosa che prende lo Zed è la vibrazione del vento che viene convogliata all'interno dello Zed nella stanza del faraone. Quindi una macchina perfetta, una costruzione perfetta. Che dire a questo punto? È evidente che non sono stati gli antichi egiziani a costruire questa cosa. Quando loro scoprono la piramide di Cheope nella piana di Giza e la piramide di Kefren e la piramide di Micerino scrivono perché loro scrivevano tutto, che le hanno restaurate queste piramidi, non ci hanno fatto nient'altro, c'erano già, loro probabilmente non sapevano a che cosa servissero. Professore, una domanda proprio su questa sua riflessione. Sulla base delle ricerche che lei ha fatto attraverso il SAR insieme al collega, una domanda, cioè la sua personale ricostruzione sul significato e sul senso, sia di quei corridoi che noi abbiamo visto. E le chiedo se secondo lei mai, nel corso dei secoli e per quanto tempo e da quanto tempo esistono questi monumenti, ovvero le piramidi, quei percorsi e quei corridoi siano mai stati varcati da piedi umani? Sì. Allora, collochiamo tutta sta storia nel tempo. Tutto comincia, come dice Armando May, dallo Zepp Tepi, cioè 36.500 anni fa. Quello è l'istante in cui un meteorite cade sulla terra provocando un cataclisma gigantesco che porterà il popolo di Aztlan a scappare da dove abitava e portare per forza di cose tutta quella che è la sua cultura in tutte le parti del mondo dove oggi troviamo le piramidi. Una di questi posti è l'antico Egitto. I costruttori delle piramidi sono quindi Atlantidei, non sono egiziani. Gli Atlantidei, da 36.500 anni fa a 13.500 anni fa, tra le altre cose, stanno nella piana di Giza. Dopodiché un secondo grosso evento cataclismatico che noi conosciamo come il diluvio universale accade e questo ancora una volta per la caduta di una serie di meteoriti o di un meteorite che però si è spezzato in molti pezzi, così dicono gli articoli scientifici pubblicati in letteratura, perché noi non ci inventiamo niente, in quell'istante la civiltà egizia è scomparsa, è stata spazzata via. Mezzo mondo in realtà è stato spazzato via. Si parla del fatto che la piramide è stata sommersa dall'acqua marina per un totale di tra i 100 e i 200 anni, dopodiché le acque si sono riabbassate e chi è entrato per la prima volta all'interno della piramide ha trovato, lo Zakia Was stesso lo dice, le incrostazioni di due centimetri di sale marino su tutta la superficie della piramide. Il coffin, la bara di granito che sta nella piramide, nella stanza del faraone, era piena di sale perché l'acqua ha evaporato, ma è evaporata con grande lentezza. La piramide è praticamente tutta chiusa, c'è solo due buchettini che sono gli shaft della stanza nord, parte nord e parte sud della stanza del re. E quindi ci sono voluti centinaia di anni, quindi tutto il sale da lì non se n'è andato. E a quel punto si è chiaramente, ci si sarebbe dovuti chiedere, no? Zakia Was, se l'è dovuto chiedere perché c'è il sale di mare nella piramide, se n'è ben guardato di chiederselo. Perché? Perché quella cosa avrebbe fatto capire che il sale poteva entrare dagli shaft e l'acqua poteva entrare dagli shaft. Ed in effetti questo non l'ha mai voluto dire perché uno avrebbe potuto pensare che proprio gli shaft erano quei corridoi da cui l'acqua veniva caricata all'interno della piramide. Cosa che probabilmente lui sapeva, ma che non aveva nessuna voglia di dirlo. Perché? Perché dire una cosa del genere vuol dire, eh, noi siamo un popolo di egiziani che a 4.000 anni fa eravamo trogloditi. Invece lui vuol far vedere che gli egiziani sono dei ganzi, come un po' il mito dell'impero romano, no? E la stessa stronzata che hanno gli americani quando dicono che loro sono il popolo più ganso del mondo. La loro storia ha 200 anni, cioè come voler paragonare l'Università di Pisa che ha 668 anni con Oxford che ne ha 150. Cioè i numeri sono dei numeri. Sono numeri completamente diversi. Sono numeri completamente diversi. In quell'istante i sacerdoti che erano coloro che in qualche modo fornivano il materiale grezzo, umano, ai faraoni per non morire e il materiale per costruire, il materiale umano per costruire le piramidi che sono state costruite dagli egizi, poverini, i sacerdoti erano gli unici che potevano essere la rappresentazione dell'interfaccia tra gli dei, loro credevano essere dei, essere dolicocefali con l'RH negativo, con queste fattezze completamente diverse poi da un essere umano come il Cro-Magnon. Allora loro sì che potevano entrare nelle piramidi, assistere e fare le cerimonie. Pensate che gli dei allora, quando si costruivano questi monumenti, chiamiamoli dei, gli atlanti dei, costruivano questi monumenti, dopo non avevano tanta voglia che la gente sapesse cosa c'era dentro. Mi ricordo per esempio che nei libri che sono rimasti a testimonianza per esempio del Tempio di Salomone, Salomone aveva uno strumento che Dio gli aveva dato che si chiamava Shamir, che era quello strumento con cui si potevano tagliare le pietre, perché sennò Salomone non avrebbe saputo come tagliare le pietre e con questo Shamir lui ha costruito il Tempio di Salomone con gli operai. Beh, negli antichi testi c'è scritto che gli operai non si ammalarono mai durante la costruzione del Tempio di Salomone, ma appena finito il Tempio morirono tutti, perché gli dei non volevano che loro dicessero che cosa c'era nel Tempio, come l'avevano costruito e quindi sostanzialmente fecero fuori tutti gli operai. Questo è il tempo di Salomone. Possiamo pensare che al tempo degli Egizi le cose siano andate in modo diverso, visto che nessuno sapeva cosa c'era dentro, neanche quei pochi, come si dice, quelle poche interfacce che gli Atlantidei avevano con i veri antichi egizi, che erano, come dicevo prima, dei trogloditi. Si capisce perfettamente che lì ci sono entrate le persone, si capisce perfettamente che oggi ci sono rientrati, ma chi? Zakiawas e i suoi compagnucci, perché lì si vede chiaramente che Zakiawas ha modificato parti del monumento, le ha modificate apposta e si vede chiaramente che è entrato all'interno di stanze che noi non conosciamo, perché ci sono le prove fotografiche. Professore, perdoni, perché fare una operazione del genere? Perché alterare il senso di una storia o perché modificare le parti di un monumento così importante? Perché inibire quella storia? Ottima domanda, ottima domanda, perché dentro questa storia, cioè dentro il nostro passato, c'è una cosa che i nostri governanti non vogliono farci capire. Quando io parlo dei nostri governanti intendo la massoneria. La massoneria nasce da Amenofis III, che è il faraone che nell'inno Aorus parla per la prima volta, della Rosa e della Croce. È da lì che nasce il movimento Rosa-Croce, non nel 600 con Rosenkreuzzen, che è un personaggio probabilmente di fantasia. Ma senza entrarci nei meandri della massoneria, la massoneria è l'interfaccia che noi abbiamo tra gli esseri umani che comandano il popolo, quindi i nostri comandanti, sopra c'è la massoneria e sopra ancora ci sono gli alieni. Che cos'è? Quindi noi siamo comandati un posto comandato da alieni. Perché quella storia deve essere nascosta? Perché lì dentro c'è la storia dell'anima, della mente, dello spirito, c'è la storia delle tre cose che compongono un essere umano. C'è la tecnologia per staccare una di queste parti, la parte animica, ed utilizzarla per far rivivere il faraone, che non aveva voglia di morire. Questa è la stessa storia che io ero trovato 10-15 anni fa, quando facevo lo studio sui fenomeni alienologici. Arrivava l'alieno, ti prendeva, ti portava nella sua macchina volante, ti ficcava in un cilindro verticale, in un altro c'era il cilindro orizzontale, guarda caso proprio le stesse strutture che noi troviamo nella piramide, e con un percorso pieno di liquido, guarda caso poteva essere acqua, la parte animica veniva estratta a 1400 metri al secondo, come un'onda sonora, e messa nel corpo del faraone che doveva rigenerarsi. La parte animica è immortale, non ha l'asse del tempo e quindi riesce a fare queste cose. Dopodiché tutto ci tornava come prima, la parte animica veniva rimessa nel corpo del soggetto, al quale gli veniva data la via, non si ricordava più niente, e il faraone, in quel contesto, l'alieno, oggi, vivevano senza morire. Il faraone ci si può chiedere, ecco, questo è il motivo fondamentale del perché non si vuole? I nostri governanti non vogliono che noi si sappia questa cosa, perché? Perché se nell'istante in cui si capisce che noi siamo anima, mente e spirito, e che queste tre cose possono essere riunificate con varie tecniche e ottenere ancora una volta la coscienza unificata, l'uomo, noi, diventiamo Dio. E in quel istante nessuno può più governarti, né alieno né alienato. E questo non se lo può permettere la massoneria, che è l'interfaccia tra i nostri governanti e gli alieni. Non se lo possono permettere gli alieni, che sono a pascolare su questo pianeta da migliaia di anni. E quindi noi questa cosa non la dobbiamo sapere. E forse questo è il motivo del perché Zakiawas ringrazia, quando va in pensione, il Central Intelligence Agency americano? Domanda emblematica, professore. Eruardo, cosa rispondiamo? Io, Salvatore, vorrei dare un po' di spazio alle centinaia e centinaia di commenti che stanno arrivando. Sicuramente non riusciremo a soddisfare... Anzi, ce ne scusiamo anche. Sì, assolutamente. E quindi se riusciamo a trovare tramite la regia qualche domanda per il professore, io ce ne avrei una. Perché ti sei focalizzato, Corrado, esclusivamente su quella della grande piramide di Cheope e di Knun Tufu. Ce ne sono altre due lì vicino. C'è qualche altra cosa di interessante che poi è uscita fuori su quelle altre due? Dunque, innanzitutto va detto che queste tre piramidi, cosa che la gente non sa, non hanno niente a che fare né con Kufu, né con Kefran, né con Menkaure, micerino per gli amici del bar. Questi tre nomi sono venuti fuori così a cavolo, semplicemente perché gli antichi greci avevano pensato, andando in Egitto e parlando con i sacerdoti, soprattutto i sacerdoti di Sais, che conoscevano parte della storia dell'antico Egitto, e quando questi gli hanno detto K'num Kufu, cioè K'num Kufu vuol dire il protetto da K'num, K'num era il faraone Dio, K'num era un faraoncino normale, K'num 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 è il protetto da K'num, cioè colui dal mio punto di vista che dentro K'num K'num, che dentro K'num, che vive con lui come parassita, intendiamoci bene, che quella era la piramide di G'num K'num K'num, e i greci hanno capito Cheops, che non c'entra neanche niente, cioè era un sordo quello che deve avere evidentemente trascritto questa cosa. E allora, siccome Kefran era il figlio di G'num K'num K'num, era il nipote, ecco che se quella più grande era la piramide di K'num K'num, le altre due dovevano essere quelle di Kefran e di Micerino, ma non c'è nessuna evidenza scritta da nessuna parte del mondo. Nel frattempo è chiaro che noi una occhiatina nella piramide di Kefran gliela stiamo dando. Non vi posso dire quello che stiamo trovando lì dentro, perché ci stiamo lavorando ora ed è prematuro dire quello che c'è, ma vi posso assicurare che c'è un sacco di roba in più di quella che è nota oggi. Quindi saranno... Ma erano tutte e tre collegate sotto da qualche coniglio? A meno questo. Si potrebbe vedere, sotto c'è tanta roba, anche nella piramide di Kefran c'è della roba sotto, che va sotto 100 metri, sotto. E sono strutture che sostanzialmente sembrano, allo stato attuale delle cose che vediamo, essere strutture in grado di assorbire le vibrazioni del terreno. Ecco, di più non posso dire. Abbiamo una domanda, professore. Cominciamo, abbiamo una domanda. Ne abbiamo tantissime, però ne prendiamo, cominciamo con la prima. ci scrive Ginus DM, buonasera Ginus, domanda. Prof, avendo scoperto la nuova struttura e le nuove stanze, viene a confermarsi quanto narrato dall'atra Asis riguardo alle piramidi e i fatti avvenuti circa 20.000 anni fa? Grazie. Non lo so. Grazie Ginus. Non saprei rispondere, devo dire la verità. L'unica cosa che noi possiamo vedere lì, che quelle stanze servono a riempire e svuotare la piramide di acqua, facendo certi tipi di operazioni ben precise. Per esempio, sotto la stanza della regina c'è un'altra stanza che fa da serbatoio, che noi avevamo postulato già prima di fare questa indagine e che poi il SAR ci ha confermato, quindi eravamo tutti contenti, perché avevamo trovato un buco nel pavimento della stanza della regina che è tappato, su cui nessuno ha messo becco, ma che si vede benissimo dalle fotografie ed è stato anche rilevato nel 1880 da un'equipe di francesi che ha studiato il pavimento della stanza della regina. Questo si può dire, di più noi non sappiamo. Quello che può essere detto è 36.500 anni fa viene costruita questa piramide, o comunque subito dopo, costruita questa piramide, che ha funzionato fino a 13.500 anni. Ha funzionato una volta ogni 200 anni, una volta ogni 100 anni, una volta ogni sì, tutte le volte che il faraone doveva essere rimesso in condizione di vivere. Quindi non è che l'acqua ci passava a tonnellate, a fiumi dentro, per cui si sarebbe dovuta corrodere. C'è stato un modesto utilizzo di acqua che ha corroso comunque tutte le parti, anche in granito, all'interno della piramide, che si vedono benissimo, ma più di questo noi non possiamo dire. Cosa è successo in quell'infrasat, come dicono a Napoli? Cioè nel mezzo tra 36.500 anni e 13.500 anni, io le mani sul fuoco non ce le posso mettere. Qualche altra domanda? Ci scrive Nola, buonasera Nola, domanda, ma la spinge che fra l'altro sembrerebbe avessi avuto anche la testa di Leone, a che cosa serviva secondo lei? Non ne ho la più pallida idea. Ne ho parlato anche con Armando Mei su questa cosa, perché ci siamo incontrati a Pescara questa estate, ci siamo scambiati un po' di figurine e Mei mi ha detto guarda non stare a perdere tempo con la piramide, perché tanto, con la spinge, perché tanto, grosso modo, lì sotto sappiamo cosa c'è. Non ce lo vogliono dire, ma abbiamo fatto tante di quei ricerche, sia Tizio che Cario che Semprone, per cui abbiamo l'idea abbastanza chiara. Guarda in Kefren che è meglio, che quella cosa lì non sa nessuno che cosa è successo e quindi abbiamo spostato la nostra attenzione, ho seguito il consiglio di Mei e ho guardato dentro Kefren. La spinge potrebbe, potrebbe essere qualche cosa che non ha niente a che fare con le tre piramidi, qualcosa che è completamente avulsa dalla cosa, dal posto. Qualcuno parla anche che esistano due spingi, una lì dov'è e l'altra forse dalla parte opposta della Piana di Ginza, ma i dati sono estremamente poco validi, non si riesce a capire questa cosa. Certo il giorno che entreremo, però bisogna aspettare che crepi Zakiahuas, che entreremo dentro i sotterranei anche della spinge, riusciremo sicuramente a capire di più. C'è chi dice, qualcuno antico dice che è stato lì e che ha visto dei labirinti sotto nella Piana di Giza. Ovviamente col SAR si potrebbe andare a vedere, a verificare questa cosa, però devo dire la verità che ora bisogna fare le cose un po' per volta e quindi le cose che sono più importanti guardiamole subito, perché se poi un giorno ci tolgono il giochino non possiamo più farlo. È finito anche quello. Esatto. Grazie professore, altre domande. Ci scrive Modillo Maximilian. Buonasera Modillo. Dove risiede la personalità di un uomo nell'anima? Se sì, dove risiede la personalità di un uomo nell'anima? Se sì, questa in parte viene trasmessa al faraone? Grazie Modillo. Allora, la personalità è dentro la parte animica, dentro la parte spirituale sostanzialmente, mentre la parte mentale è una specie di trasduttore di informazioni tra la parte destra e la parte sinistra del nostro cervello, cioè tra il maschile e il femminile. Quindi il maschile vede il mondo in un modo, il femminile vede il mondo in un altro modo. Quello che noi sappiamo è che, che sapevamo da quando facevo le ipnosi regressive, quindi tanti anni fa, quando la parte animica rientra all'interno del contenitore del donatore, dopo che la sua energia è stata utilizzata dall'alieno, si porta con sé tutta la memoria delle esperienze dell'alieno e quindi in qualche modo soffre, il soggetto addotto, di crisi di personalità, perché non sa più se è umano, se è alieno, se è chi. Mi immagino che al contrario succeda la stessa cosa, cioè il faraone, in quel caso, l'alieno nei nostri casi, acquisisca in parte informazioni animiche, che però lui non avendo parte animica non riesce neanche a comprendere. Una delle cose che l'alieno non capisce sono le nostre emozioni, per esempio. Su questo, altri scrittori, altri studiosi del fenomeno dell'abduction, hanno scritto da Bud Hopkins a John Mac e così via. È probabile che l'alieno, che il faraone quindi, avesse dei momenti in cui si umanizzava, ma questi momenti tecnicamente, probabilmente, duravano molto poco. Il faraone poi tornava senza parte animica. Non dovete pensare che un faraone senza parte animica sia qualcosa di strappo. Guardate, il 70% delle persone non hanno parte animica, no? Sono tutti quelli che ogni tanto si fanno delle punturine senza pensare. grazie prof. Altra domanda dalla regia? Andiamo spazio ai nostri amici. Leonardo Lozzi. Buonasera Leonardo. Oltre al Lux Malanga ho avuto modo, in ipnosi regressiva, di parlare con gli alieni che hanno vampirizzato la civiltà egizia, ovvero ira. Sì, ahimè, sì. Noi scoprivamo questa cosa nelle ipnosi regressive dove il soggetto aveva dei fenomeni di alloglossia e cominciava a parlare arabo antico e che noi poi dovevamo far tradurre da qualcuno perché non conoscevamo nulla di questo. E da lì si capì che c'era una forte correlazione tra il fenomeno dell'adduzione e il ricordo di vite passate, soprattutto in antico Egitto, dove il soggetto ricordava perfettamente, ma era un periodo in cui noi ben lungi stavamo a pensare che un giorno avremmo scritto un libro sulle piramidi, il soggetto descriveva come veniva portato all'interno della piramide dove gli veniva staccata la parte animica che serviva a dare forza al faraone. Io mai e poi mai avrei pensato che le ipnosi di 15-20 anni fa si sarebbero riviste e ritrovate esattamente in una struttura della piramide che si doveva fare proprio quello che in ipnosi veniva detto. Quindi è evidente che in quel contesto l'alieno che usava la piramide e l'energia dei poveri egiziani era Ra, cioè l'alieno che viene da un altro mondo, l'alieno che è legato al dio della civiltà egizia, ma non solo lui, c'era anche il cosiddetto serpente. E poi quando io chiedevo alla persona in ipnosi che si stava ricordando di una sua vita nell'antico Egitto con un nome egiziano che parlava egiziano, a volte egiziano antico, c'è altri che sfruttano l'energia oltre a questo grande uccello, Ra, con le penne che era chiamato lorus, poi tra parentesi, quindi avevamo la stessa nomenclatura, e il serpente, cioè l'alieno anfibio che noi di solito descriviamo nei testi come alieni o demoni, che tra parentesi è stato, verrà ripubblicato il 10 dicembre, andrò a fare una presentazione a Roma, perché ora vi è dato un testo di più di 700 pagine, e il soggetto sotto ipnosi diceva no, perché di energia non ce n'è più per nessuno, cioè Enchi e Denlil, che sono il Ra e il serpente dell'antico Egitto, che sono questa coatl in America Latina e il suo fratello più mato che vola, sono alla base delle antiche leggende e degli antichi miti del mondo, e che noi ritrovavamo perfettamente in quelle che erano le ricostruzioni delle ipnosi regressive. E poi il cerchio si è chiuso quando io ho messo mano nella marmellata, e questa volta la marmellata era la piramide di Cheope, e abbiamo potuto constatare io e il mio co-worker che lì dentro c'era esattamente tutto il materiale per poter dire sì, avevamo visto giusto. Prof, una domanda, sempre rispetto a questa ultima affermazione che lei ha fatto nel corso dell'ipnosi regressiva, lei dice, è arrivato persino a sentire parlare in arabo antico, ma questo tipo di manifestazione non trova abbia anche delle similitudi rispetto a quello che cristianamente poi si intende come rito di esorcismo, perché il rimando, lì si parla di aramaico, però evidentemente può essere una sfumatura con analoga procedura. Certo, certo, allora bisogna tenere presente una cosa fondamentale, innanzitutto, secondo la mia ipotesi, le mie teorie, per quello che ho potuto vedere, per la mia esperienza, noi siamo i creatori dell'universo. Dire questo, ci ho scritto anche un libro, no, io ed io, come si diceva prima, essendo che noi siamo i creatori dell'universo e sembra che la fisica quantistica ci porti in quella direzione, oltre che la rilettura dell'antico mito, questo ci dice una cosa fondamentale, che noi dentro di noi, una volta che le nostre tre parti, anima, mente e spirito, chiamatele come volete, sono nomi convenzionali, si riuniscitano, noi raggiungiamo una coscienza integrata. Questa coscienza integrata, in uno spazio-tempo non locale, come ha detto il premio Nobel 15 giorni fa, Alain Aspect, che ha preso proprio per questa cosa di fisica, noi siamo contemporaneamente anche chi siamo stati e siamo contemporaneamente anche chi saremo. Cioè il discorso delle vite passate o delle vite future diventa una cosa istantanea, cioè tutto accade in un unico istante. Il nostro cervello, che secondo un neurofisiologo che si chiama Pribram, è un lettore di ologrammi, leggerebbe all'interno dell'universo, che è un ologramma, in questa acascia gigantesca, tutte le informazioni che ci sono. E noi avremo a disposizione tutta la conoscenza dell'universo. Ora noi non lo sappiamo, perché non siamo in contatto con noi stessi, ma siccome noi siamo Dio, questo è. E allora nell'istante in cui riviviamo, rivivifichiamo una vita passata, ecco che in quell'istante l'unica cosa che esiste, che è il presente, noi l'abbiamo portato nel passato. E in quell'istante noi assumiamo i connotati, le identificazioni di quel soggetto lì. E quindi parliamo quella lingua lì, perché la sappiamo perfettamente. Quando si tira fuori la parte animica dall'ipnosi, la parte animica non ha l'asse del tempo, ha solo l'asse dello spazio e l'asse dell'energia. Quindi è in grado di andare a leggere, come la puntina di un cd, nel posto dove ci sono le informazioni della vita in Egitto. E lui parla egiziano. E quindi non c'è nulla di strano, non c'è nulla di realmente legato a esorcismi ideologicamente paragonabili a aspetti religiosi o diavoleschi, satanisti della cosa. C'è semplicemente solo fisica quantistica. Ci stiamo avviando alla conclusione. Qualche altra domanda al professore? Vado io? Sì, ok. No, beh, chiaramente le domande veramente, Corrado, sarebbero centinaia, così come stanno arrivando da quelli che sono i nostri spettatori, che noi ringraziamo per essere presenti, anzi abbiamo fatto veramente una grandissima serata insieme a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quindi più che farti una domanda ti volevo ringraziare e poi chiaramente lo faranno anche gli altri proprio per aver partecipato e averci condiviso le tue ricerche. Quindi ancora grazie e poi ci salutiamo più avanti. Ciao. Certo, ma questo è solo l'inizio perché se continuano, se continuiamo ad avere l'opportunità di andare in questa direzione e in altri, perché io ho ancora altri quattro progetti di ricerca che stanno andando piano piano avanti tutti quanti, allora si può dire veramente la parola d'ordine, ne vedremo delle belle. Grazie professore, abbiamo qualche ultima domanda prima di... Sì, ne diamo ancora qualcuna facendo qualche digressione breve sul tempo. Ci scrive Vincenzo Manna, buonasera professore, la tecnologia di quei tempi era collegata alla mente, alla coscienza di chi la utilizzava? Sicuramente più di oggi, perché quello che io ho visto guardando nel passato, cercando di documentarmi, è che noi abbiamo avuto diverse ere geologiche su questo pianeta, quindi la storia è completamente tutta da riscrivere, questo è un altro problema, che sicuramente non farà piacere né ai religiosi né ai politici di turno, ma noi troviamo noi troviamo scheletri di esseri umani per esempio giganti, molto alti, no? Se ne parla, no? Anche il libro ultimamente che è stato pubblicato da Orman, mi sembra che... Sì, sì, sì. Poi quando uscirà te ne faccio copie, te ne regalo una copia. Ecco, e quindi quelli da dove venivano, chi erano, come spostavano i massi così pesanti, pur non avendo quelle tecnologie che probabilmente, attenzione, ho detto probabilmente, l'alieno forniva al dolicocefalo, che era terrestre, non era alieno. Noi sicuramente allora eravamo in grado di sfruttare le forze della natura, la forza della mente, noi siamo i creatori dell'universo e quindi eravamo in grado di usare, come gli alchimisti, terra, fuoco, aria e acqua, sostanzialmente, che sono le quattro cose importanti su cui poi si basa il corpo, la mente, l'anima e lo spirito. E lì facevamo tutto quello che oggi invece non possiamo fare se non abbiamo in mano un telefonino. Una domanda veloce. Questo cranio dolicocefalo poteva avere all'interno un qualcosa che noi non abbiamo, tipo una ghiandola pineale più sviluppata, che permetteva questo gioco di vibrazioni, qualcosa che noi non abbiamo, o perlomeno abbiamo molto piccolo. Sì, è una mia idea che è basata un po' sull'aspetto della biologia e dell'evoluzionismo. Io credo che noi abbiamo tutti i pezzi che ci avevano loro, solamente che loro ce li avevano funzionanti, mentre noi abbiamo dimenticato probabilmente come si utilizzano. Però ci sono alcuni esercizi come il Triade Color Test Dynamico Flash, di cui io mi sono fatto sponsor per anni, che utilizzandoli possono riuscire a fare veramente delle sorprese negli esseri umani e a far recuperare quelle cose per cui noi si riesca a fare dei miracoletti anche noi. Quindi se qualcuno è interessato vada sul mio sito, si legga il pdf di 11 pagine, applichi su di sé il Triade Color Test Dynamico Flash e poi ne riparliamo. Grazie professore, volevo ritornare un attimo veramente in chiusura sul problema della composizione dell'anime, quattro elementi a cui lei faceva riferimento prima, richiamano e rimandano alle quattro anche radici eraclitee, in base alle quali il filosofo greco andava ad interpretare l'origine, l'archè, il famoso archè, apparteniamo ancora alla fase dei naturalisti, se non ricordo male. Prego professore. Sì, dunque da un punto di vista di fisica quantistica, l'idea che l'anima sia un gruppo di vettori e di tensori può essere valutata, cioè l'anima ha un asse dell'energia, ha un asse dello spazio e sull'asse del tempo non c'è niente, cioè come dice la fisica quantistica moderna, l'anima vede il tempo in modo non locale. Lo spirito c'ha l'asse dell'energia, c'ha l'asse del tempo, ma sull'asse dello spazio non vede niente, cioè vede lo spazio in modo non locale. Questo ci chiarirebbe come una visione solamente maschile o solamente femminile ci renderebbe completamente la vita impossibile, perché noi saremmo fuori del mondo totalmente. Allora ci sono i maschi che hanno una tendenza più particolare soprattutto i suoi movimenti del maschio, il canale di entrata della visione, che è l'asse spaziale, è contraposta al tempo e all'asse deludito che è prettamente femminile. Quindi si vede perfettamente come il maschio e la femmina tendano a utilizzare questi canali del maschile e del femminile in modo completamente diverso. Solo una unificazione tra la parte maschile e la femminile del sé riuscirà a dare all'uomo il ricordo di quello che era prima. Quindi c'è un discorso poi fondamentale che è il discorso della dualità e della trinità. L'universo nasce duale, la fisica è duale, il codice binario è un esempio classico, le cellule si dividono in due non in tre, le molecole fanno un urto bimolecolare, non esiste un urto trimolecolare nelle reazioni organiche e così via. Il nostro cervello funziona in modo duale, quando scegli tra tre persone scegli tra la prima e la seconda, la prima e la terza e la seconda e la terza, quindi fa tre dualità. È così. Da dove nasce il tre? Il tre nasce dal fatto che il duale è così veloce che noi vediamo a interconvertirsi l'uno nell'altro, il buono e il cattivo, l'acceso e lo spento, tutte le manifestazioni che noi abbiamo della realtà, fotone e antifotone, che noi vediamo semplicemente un fotone virtuale, cioè un fotone che non abbia massa. Noi non vediamo il fotone con massa e l'antifotone con antimassa e anticarica. Noi vediamo una cosa che si muove così velocemente che noi vediamo una cosa sola. È come se noi facessimo girare una ruota mezza blu e mezza gialla, velocemente noi cosa vediamo? Una ruota verde. E questo accade per un teorema che è il teorema di Shannon. Il teorema di Shannon dice se noi siamo i creatori dell'universo, questo non lo dice Shannon, lo dico io, e noi creiamo una cosa, costruiamo una cosa, quando andiamo a osservare questa cosa, che sicuramente avrà una vibrazione che la caratterizza, dobbiamo usare una vibrazione doppia della cosa che abbiamo costruito, se no perdiamo informazioni. Quindi noi, che abbiamo creato l'universo, abbiamo creato la dualità, che sovente si interconverte con grande rapidità davanti ai nostri occhi. Noi non vediamo né A né B, né bianco né nero, ma vediamo grigio. È una nostra incapacità di renderci conto di che cosa abbiamo creato. Ad altronde, professore, questo concetto del dualismo è un concetto anche, possiamo dire, di civiltà, delle civiltà antiche. Basta ricordare che ne hanno fatto anche motivi ed elementi che sono entrati poi nella vita personale delle civiltà antiche. Nell'antica società ebraica, per esempio, una testimonianza era ritenuta vera alla luce di due testimoni, come nell'antica lingua greca, c'è ancora il residuo di quella coniugazione, di quella declinazione che va sotto il nome di duale. Quindi il concetto del duale veramente diventa poi anche un assetto di vita ed un assetto societario. Io ringrazio, giusto professore, a lei la chiusura. Sì, grazie, aggiungo che questo è vero, quello che ha detto lei è verissimo, storicamente verissimo e quello che io credo è che oggi si debba capire che la dualità era e l'abbiamo creata noi in funzione del fatto di comprendere l'unica cosa che la coscienza non ha capito, che cosa vuol dire essere due. Allora dobbiamo passare attraverso l'esperienza della dualità per comprendere che la dualità non esiste. Cominciare da domani mattina a vedere che non ci sono i cattivi, semmai ci sono gli stupidi che ci sembrano talmente stupidi da sembrare cattivi, ma la dualità da un punto di vista fisico è come l'entropia, è come tutte le espressioni della realtà non esistono a meno che noi non crediamo che esistano in quell'istante. Noi che siamo i creatori dell'universo le creiamo così e le vediamo così, perché le abbiamo create così. Se domani mattina noi creiamo un universo, convinti che non ci sia più dualità, non vedremo più la dualità e torneremo a essere quella cosa uno che era all'inizio dei tempi. Quindi ora stiamo facendo l'esperienza del duale, proprio per capire che questo non c'è. Grazie professore Malanga, io ringrazio tutti i nostri amici telespettatori, anzi abbiamo avuto proprio questa sera una comunità particolarmente ricca, particolarmente fiorita e numerosa, alla quale voglio ricordare che non tutti sono iscritti al nostro canale, quindi il nostro invito veramente questa sera più che mai ad iscrivervi al nostro canale e soprattutto a esprimere il vostro like se questo video è stato di vostro gradimento. Io saluto e ringrazio Edoardo Orma, veramente il nostro grazie da parte di tutta la redazione per aver invitato nuovamente professore Malanga. Professore, lei è di casa ormai qui a Torre del Greco e quindi io mi permetto già oggi di reinvitarla nel corso di questa quinta stagione che vedrà il termine nell'anno 2023. Con questo è davvero tutto, io ringrazio Ciro Gaglione dalla regia, i nostri amici telespettatori, appuntamento alla prossima settimana con una nuova trasmissione, una nuova puntata della nostra rubrica Oltre la storia. Con questo è davvero tutto, buonasera da Salvatore Perini. Grazie a tutti.